Alla fine, Daniela Martani, la hostess di Alitalia, ospite del Grande Fratello, ha deciso di uscire dalla casa. Devo difendere il mio diritto al lavoro, come quello dei miei colleghi che hanno perso il posto. Non posso restare, ha spiegato in lacrime. Poco prima, Alessia Marcuzzi aveva fatto vedere a Daniela un video messaggio, in cui la madre le consigliava di uscire. Pensaci bene, aveva detto, noi vogliamo che tu mantenga il tuo posto di lavoro. È un consiglio, ma noi ti vogliamo bene qualunque sia la tua decisione. E la decisione di Daniela alla fine è stata quella di lasciare il Grande Fratello, per evitare il licenziamento come hostess della nuova CAI.